Il mio sogno è sempre stato quello di fare il regista, mi è sempre piaciuto il cinema. Onestamente non so, forse perché mi permette di vedere mondi nuovi, mondi fantastici, mondi diversi dalla realtà. Ho iniziato facendo cortometraggi con i giocattoli, animandoli in stop motion. Uno di questi corti l'ho mandato a The Festival e ha avuto un po' di successo, ha vinto dei premi. Sono stati fatti articoli su riviste nazionali, non ho fatto nessuna scuola, tutto quello che so l'ho imparato guardando i film. Ho provato tantissime volte a stare in un set cinematografico, ma nessun regista mi ha mai dato questa opportunità. A questo festival ho partecipato con il videoclip Silenzio di Sirena, realizzato a Roma con l'ausilio della piccola produzione Solo Buio, con Vincenzo Scuruchi e Marianna De Rossi. L'idea di questo cortometraggio è nata dal fatto che a me è mancata una persona cara nel momento in cui mi è stato offerto di fare un cortometraggio con questa produzione. Allora in qualche modo ho raccontato questa mia esperienza. Allora in qualche modo ho raccontato questa mia esperienza.